Mancano solamente tre giorni per la Pasqua 2014 e molti, e quei fortunelli che hanno a disposizione qualche giorno di ferie, si stanno ancora chiedendo cosa fare e dove andare, ma soprattutto quali temperature ci aspettano. Con l'arrivo della bella stagione, infatti, la regola è sempre la stessa, chiamare a raccolta gli amici e parenti e preparare spuntini facili e veloci, perfetti da gustare sull'erba o al riparo in gazebo. Bastano un bel prato e un po' di sole, ma se arriverà la malefica corrente artica, meglio avere un piano di scorta e puntare su giornate di sola gastronomia o di arte e spettacolo. Così, a chiunque voglia vivere l'esperienza della Santa Pasqua all'insegna della cultura in un territorio affascinante, nel Vallo di Diano, nella maestosa Certosa di Padula, è in programma lo spettacolo dal titolo Il Purgatorio di Dante. Chi deciderà di recarsi nel monumento certosino potrà così scegliere di godersi l'interessante rappresentazione scenica, ma anche di fermarsi a cena o soggiornare per l'intero weekend in uno degli importanti hotel di Padula, oppure trascorrere una bella giornata pasquale e i lunedì dell'Angelo in agriturismo, con, e tempo permettendo, visita guidata a scelta tra la Valle delle Orchidee di Sassano, le Grotte di Pertosa, il Centro Storico di Padula o di Tegiano, la Fonte Battesimale di San Giovanni in Fonte, la Città Morta di Roscigno o il Castello Macchiaroli di Tegiano. Il 19, 20 e 21 aprile, la Certosa di San Lorenzo resterà aperta dalle 9 alle 19.30. Per info e prenotazioni www.tappetovolante.org oppure 081 86 31 58.